Il vantaggio è salito a 1.45 su Francesco Moser. Knudsen è sempre in seconda posizione in classifica ma il giorno dopo non riesce a recuperare nonostante il giorno di riposo e quindi si arriva alla tappa del Pordoi. Sul Pordoi dopo aver resesito sul falsarico, sul Pordoi invece Knudsen accusa le conseguenze della caduta, arriva con un quarto d'ora di ritardo a Trento, ecco vedete la strana volata di Saroni a Trento, è in testa, parte in testa poi a un certo punto sembra disinteressarsi, quasi smette di pedalare, si volta addirittura mentre Francesco Moser vince nella sua... ...i Saroni che Rossini...